A Campi Bisenzio 47.000 abitanti e 12 frazioni, la partecipazione dei cittadini alle politiche del Comune fa scuola e i risultati sono stati illustrati nella sede della Presidenza regionale a Firenze. Dal 2015 al 2017 sono stati 400 i cittadini che si sono espressi anche con il voto online su questioni come il verde pubblico, la manutenzione delle strade e degli edifici pubblici, 200.000 euro a disposizione ogni anno e tre frazioni scelte. Quest'anno sono quelle di Sant'Angelo, San Cresce e Gorinello. C'è un'attenzione dei cittadini che si sentono protagonisti e quindi una comprensione della complessità delle situazioni presenti nelle comunità e quindi c'è un aspetto pedagogico, cioè le persone ordinano le priorità e capiscono che tutto non si può fare ma va selezionato e quindi vanno selezionate le priorità delle priorità. Novità del 2019, il bilancio partecipato a Campi Bisenzio sarà coniugato con gli obiettivi di sviluppo sostenibile e di inclusione sociale dell'agenda 2030, sottoscritta nel 2015 dai 193 paesi dell'ONU. Penso che questa esperienza di Campi Bisenzio davvero rappresenti un tassello importante nell'elaborazione della strategia per lo sviluppo sostenibile che la regione toscana ormai ha avviato con l'apertura del forum e con i vari contributi che certamente arriveranno. Il bilancio partecipato adottato da Campi Bisenzio impiega un metodo, quello della partecipazione che in Toscana è stato normato per legge prima nel 2007 e poi nel 2013. La partecipazione è per la Toscana un punto di partenza determinante che è anche il punto di partenza di altri percorsi che stiamo mettendo insieme ai comuni in atto e sono quelli di una rete diciamo di comuni che insieme alla regione provano partendo appunto dalla partecipazione anche a fare politiche di collaborazione. A livello nazionale i comuni che adottano il bilancio partecipato sono 35.